Musica Un cordiale saluto a tutti i nostri telespettatori da Katia Sala Ben trovati anche da Fabio Panzeri, eccoci insieme di nuovo per una nuova puntata di Primo Piano Ospite graditissimo Angelo Gandolfi, ben trovato Grazie, grazie dell'invito Fabio faccio davvero fatica a riassumere l'intensissima esistenza di Angelo Gandolfi Uomo che si è sempre dedicato alle battaglie civili Uomo che si è sempre dedicato alla cultura senza dimenticare l'impegno politico, l'impegno nelle istituzioni Abbiamo davvero tanti argomenti di cui parlare Ma io vorrei partire proprio dall'inizio Gandolfi Da quando lei era bambino Perché a due anni accade un fatto che segnerà la sua vita Eh sì, a due anni ho preso la polio Alla sera stavo bene, camminavo Di notte mi è salita una febbre altissima E al mattino non camminavo più È stata una cosa assolutamente repentina Questi erano gli effetti della poliomielite Che poi nel corso degli anni Ti ha impedito lo sviluppo dei muscoli Ti ha impedito la mobilità più o meno grave Io per esempio mi sposto solo con la carrozzina E questo ha indubbiamente segnato la mia vita Non del tutto negativamente, devo dire Mi è dato anche l'opportunità di fare delle cose Che forse se non avevo la polio non le facevo Per esempio io sono di estrazione molto popolare E tutti i miei coetanei a Montemarenzo Dove sono nato e abitavo Sono andati tutti a fare il muratore E io non ho potuto fare il muratore E quindi ho avuto il tempo di leggere, di studiare Per i fatti miei Perché a scuola non sono andato oltre gli elementari Ho fatto le medie da solo E questo mi ha dato la possibilità di avere una vita diversa Appunto diversamente viva e intensa Diversamente viva è il titolo di uno spettacolo di teatro civile Di cui lei, insieme a Sergio Vaccaro, è autore Ne parliamo perché è un capitolo questo molto importante Beh, classe 1947, Gandolfi È chiaro che all'epoca i vaccini non esistevano Comunque erano veramente Sì, c'era un vaccino assolutamente inefficace Non ci fu ancora a quell'epoca il Sabine Come venne dopo che risolse tutto Tra l'altro ricordare la figura di Sabine è straordinaria Perché è stata l'unica persona che ha inventato un vaccino Che ha risolto questa gravissima malattia infantile E non ha tenuto per sé il diritto di riprodurla L'ha donata a tutti i paesi dicendo Adesso fate questo farmaco Io adesso sono un po' turbato Se devo dire la verità Da campagne che sento molto forti contro le vaccinazioni Ecco, cosa vuol dire al popolo dei no-vax E anche ai politici che sostengono il popolo dei no-vax No vaccini Allora, vorrei dire che io sono l'esempio vivente Di come il vaccino avrebbe potuto riservarmi una vita decisamente migliore Dal punto di vista fisico E non dobbiamo lasciarci intimorire Dalle conseguenze che alcune volte alcuni vaccini possono procurare Se noi mettiamo sul piatto della bilancia I benefici che i vaccini hanno portato l'umanità E sull'altra piatto della bilancia Casi che magari ci sono verificati Dove ci sono state le conseguenze negative È chiaro che il bilancio è assolutamente a favore dei vaccini Perché ha risolto malattie Soprattutto per i bambini Di grande sofferenza E di grande diffusione Tra l'altro, se posso dirlo L'altro giorno ho incontrato un mio carissimo amico Di cui non posso dire il nome perché è una persona pubblica Che ha una figlia con una grave malattia Beh, che deve stare attento a tutte le persone che l'avvicinano Perché lei potrebbe prendere qualsiasi malattia Che sarebbe per lei molto seria Voi mi capite quindi che il vaccinarsi Non significa solo che è un vantaggio per me Che sarebbe importante già Se è venuto qualcuno ai miei piedi Non in carrozzina Ma aiuto anche quelle persone Che non hanno la possibilità di vaccinarsi E che sono veramente in balia Della nostra responsabilità Gandolfi, parlare della disabilità È un compito molto difficile Anche per gli operatori della comunicazione Trovare il registro giusto Che sia alieno da Magari in buona fede Dai difetti del paternalismo Da un approccio sbagliato Forse val sempre la pena ricordare Che si parla di persona con disabilità Mai sostantivare Un individuo in ragione Di una sua condizione di disabilità Quante volte le è capitato Di arrabbiarsi nel leggere O nel sentir parlare di disabilità In una maniera che le sembrava sbagliata Sì, nella mia vita è capitato molto spesso Soprattutto nella fase adolescenziale Quando tu hai il desiderio Di fare delle cose Che ti sono impedite Invece verso di te c'è sempre Quella forma un po' paternalistica E poi c'è un aspetto Secondo me che è il più serio Il più doloroso Proprio che riguarda l'adolescenza Perché il disabile Nel senso comune È quella persona Che dovrebbe restare Un eterno bambino Un'eterna bambina Si chiamiamo sempre ragazzi Si sa, no? Si chiamano sempre ragazzi Utenti dei CDD Ecco, sono sempre ragazzi Sono 50 anni E quindi Essendo Avendo questa visione Sono persone Che non devono avere Una loro sessualità Sono persone Che non devono avere Tenerezze Nei confronti degli altri Soprattutto di non Ricevere tenerezze appunto Che abbiano a che fare Con la sfera dell'affettività E questo è veramente una cosa Pesantissima Questa è una cosa Veramente che incide molto Poi anche Non solo nei comportamenti Proprio nell'equilibrio Fisico Psicofisico Di un individuo Insomma Sono stati fatti Passi avanti Sì Notevolissimi Guardate Io e mia moglie Abbiamo Tra virgolette Militato Un secolo fa Quasi In Organizzazioni Religiose Molto tradizionaliste Che Devo dire Erano le uniche Che si occupavano Delle persone disabili Ecco Però Dove lì per esempio C'era questo concetto Che la sofferenza Della persona disabile Era un valore Perché doveva essere Donata a Dio Per mondare I peccati del mondo Questa cosa qua Io Non Non l'ho Sopportata a lungo Insomma Un po' pesantuccia Per fortuna Per fortuna Perché questa è la cosa Importantissima Erano gli anni In cui Si cominciava Anche a mettere in pratica I valori Del concilio Vaticano II Quindi c'è una parte di chiesa Che no Dice La persona disabile È una persona Che invece va valorizzata Nel suo aspetto umano Quindi con tutti i suoi difetti I suoi pregi Però inserita Nel contesto umano Che deve fare come gli altri E quindi È stato molto interessante Molto creativo Questo periodo Ha citato Sua moglie Carla Una donna Straordinaria La conosciamo Che l'ha affiancato Sempre In tante battaglie E poi Nella vita quotidiana Sì Io e Carla Condividiamo Delle cose Molto importanti E litighiamo Spessissimo Su delle cose Assolutamente Trascurabili E chi ha ragione Alla fine Ha ragione Non lo so Cerchiamo di non arrivare Mai in fondo Lasciamo in sospeso La questione Per non avere Nei vinti Nei vincitori Nel senso che sì Penso che la convivenza Quella che Dura nel tempo È quella di condividere Le cose che hanno senso Ecco Assolutamente Di valore Insomma Capito Lei prima parlava Dell'affettività Della sessualità Ecco Sono temi Sui quali Spesso e volentieri Cale il silenzio Lei invece So che Sappiamo Che ha tenuto Una relazione Molto apprezzata A frutto Delle sue letture Della sua intelligenza E sensibilità Attorno Credo Un'opera Meravigliosa Per chiunque Anche per i laici Per gli atei Il cantico dei cantici Per dire cosa Con il sindaco Di Brivio È stata Una serata Molto interessante È stato chiamato A portare La mia testimonianza Un po' tempo fa Sì La mia testimonianza Sulla La relazione Fra disabilità E sessualità E il pretesto Era partire Dal cantico dei cantici Perché anche lì Ci sono un po' di ambiguità Ambiguità Interpretazione Dove si pensa Che sia Che la parte Diciamo Erotica Di questo straordinario Testo letterario Sia Anche quella Una Come posso dire Una Una sublimazione Rivolta verso lì Invece E niente È un canto d'amore Molto corporale Molto fisico Fra due E quindi sono partito Da quello Proprio perché Diciamo che questa Barriera Dell'affettività Tra persone disabili O tra un disabile E una persona Non disabile Rimane una delle barriere Ancora Da superare Lo so che è molto difficile Perché coinvolge Sentimenti E non puoi fare Una legge Che obbliga qualcuno Ad amare qualcun altro No Qui è un aspetto Veramente culturale Che deve avanzare Sono stati fatti Tantissimi Comunque passi avanti Per esempio Io sono partito Da quando si facevano Le scuole differenziate Per le persone disabili Per i ragazzi Adesso invece C'è l'insegnante Di sostegno Per aiutare L'integrazione Però non dobbiamo mai Dimenticare Che sono conquiste Non una volta Per tutte Ogni volta Che si fa una finanziaria Si è sempre lì Col timore Che queste Che le regole Che si stanno mettendo In campo Di ordine economico Possano mettere In discussione Alcuni presidi Chiamiamoli così Di sostegno All'integrazione Come lei diceva All'interno Della comunità Delle persone disabili E L'avvio al lavoro Per esempio No? La scuola Ma anche il divertimento Avere la possibilità Per una persona Per un ragazzo disabile Di Montemarenzo Di andare al pub Alecco Alla sera Con i suoi amici Non sempre i genitori Sono disponibili No? Ma devono essere i compagni Ma lì ci vuole Un processo educativo Condiviso Che si arriva lì Con il furgone attrezzato Come capita Al mio amico Fabrizio Fontana Che va ovunque Proprio perché è riuscito A costruire una rete Di relazioni Che lo portano anche A divertirsi In maniera Forte Diciamo che io non faccio Perché sono ormai anziano Ecco Questa è la cosa Stentangelo Abbiamo parlato Del Cantico dei Cantici Ha parlato di una sua Lontana militanza In gruppi cattolici Il richiamo al concilio Vaticano II Come questo patrimonio Di formazione Poi si è coniugato Anche invece Con quella che è stata Una sua matrice Di formazione Laica politica Legata alla militanza Nel partito comunista E quindi il richiamo Ad altri valori Ma io devo dire Che un grande aiuto Quando si militava Quando si era in questi gruppi È stato Angelo Cupini Angelo Cupini Ha rappresentato Per me personalmente Per mia moglie Carla Ma per tanti altri Veramente La figura di riferimento Che ci ha aiutato A liberarci Delle nostre paure Di rimanere Eterni ragazzi Perché persone disabili Naturalmente poi Ognuno ha preso La sua strada Perché poi è così Perché vedete Il volontariato Al quale io e mia moglie Abbiamo indicato Parte della nostra vita È molto importante In Italia Milioni di volontari Che si occupano Di tutto Dalla socialità Allo sport Però Certe volte Ho un'impressione Che non riescono A incidere Sui processi Di progresso Di un paese Perché Non riescono A modificare I programmi Della politica Questo è È drammatica Questa cosa qua Eppure sempre più spesso Si parla di Sussidiarietà Di integrazione Di complementarietà Fra terzo settore E istituzioni Mi sono sentito Di fare questo passaggio Di mettermi In politica E Proprio perché Pensavo Che era necessario Organizzare Delle cose Cioè Sarà brutale Dirlo così Però Fare politica In una realtà Piccola Come la nostra Significava Passare Dall'assistenza Per esempio Per le persone disabili E gli anziani A un servizio Cioè La differenza Non è solo Formale È semantica È proprio profonda Perché l'assistenza Era io Ti concedo Questa cosa Ti do Guarda Ti do Mi capitava Ti do 100.000 lire al mese Perché non hai niente Sei disabile Al diritto Di avere la scuola Di avere Il lavoro Al diritto Di potersi curare Questa era la differenza Sostanziale E quindi ho detto Facciamo questo E quindi mi sono messo In politica Per fare questo E mi sono avvicinato A quello che Mi sembrava Il partito più vicino A questo tipo Di proposte Di vendicazione Senza mai Guardate Io vi È una testimonianza Qualche mese fa È scomparso Un sindaco Di Montemarenzo La democrazia cristiana Degli anni Degli anni Settanta Diciamo così E Gli ho scritto Una lettera I figli Dicendo che Adesso A distanza Di tanti anni Riconosco Che devo molto a lui Perché noi Siamo sempre stati Antagonisti Ma mai nemici Mai nessuno Dei due Ha tentato Di Come posso Di eliminare L'altro Ha cercato Di far prevalere Il suo punto di vista Nei confronto Dei cittadini Ma sempre Mantenendo Questo rapporto Di civiltà Che secondo me Deve esistere In politica Assolutamente La politica Non deve essere La distruzione Di chi non la pensa Come te Mai E poi Mai Eppure Guardando Gli ultimi anni Prendiamo anche Un arco temporale Diciamo Non amplissimo Però un pochino Più spalmato Ecco Vediamo proprio Che la politica Ormai esercita Anche il linguaggio No? Un linguaggio E poi le prassi Possiamo dire Violente In certe In certe situazioni In certi casi E questo Ha un effetto Devastante Sulla società? Sul tessuto sociale Sì Perché una Parola violenta Un gesto Violento È difficilmente Ricomponibile Non si riesce A tornare indietro Con facilità Perché crea La credine Crea la contrapposizione Non è possibile Diciamo che lo sdogani Quindi lo dici tu Lo può dire chiunque Sì Quello che dicevano Come si dice banalmente Lo diciamo tutti fra di noi Quello che prima si diceva Nel bar Diceva una stupidata Tremenda E cattiva E violenta Nei confronti Delle altre persone Adesso Con i media Naturalmente Diventa Un patrimonio Visto da milioni Di persone E quindi Raccoglie consensi Su delle questioni Che Mettono a rischio La tenuta Democratica Di un paese E anche con una civiltà Dei social Che obbliga sempre Alla logica Del mi piace Non mi piace Alla contrapposizione Alla messa al bando Piuttosto che Alla tifoseria E quindi si fatica A un riconoscimento Poi Dell'alterità Di un interlocutore Della differenza Come valore Che arricchisce Non ci sono alternative Capite Quello che vorrei Che si capisse Cioè almeno io la penso Non ci sono alternative Alla mediazione Questa brutta Cioè non so perché È diventata una brutta parola La mediazione La mediazione vuol dire Trovare un punto di equilibrio Fa persone Che la pensano In maniera diversa Ma che sono costrette A vivere insieme Cioè Non c'è alternativa Non è uno Cioè se io Cerro con una persona Posso andarmi Non guardarlo più Ma una comunità Non è così Perché altrimenti C'è lo stracismo E facciamo quindi Un decreto Che chi non la pensa Come deve andarsene Non è così Noi dobbiamo trovare Il punto di equilibrio Fra diversi E le chiedo In tal senso Il consenso La ricerca del consenso Con la quale il politico A qualsiasi livello Si deve misurare È una cattiva tentazione? Beh Il consenso In sé È anche una cosa Come posso dire Giusta Nel senso Democratica Nel senso Che io Ho un progetto Se non ho consenso Questo progetto Non riesco A realizzarlo Però Il consenso Deve essere giocato Sul piano Della verità Non può essere giocato Sul piano Delle cose Che non esistono O delle cose Che sono deformate Sul piano Della verità Noi siamo arrivati Al punto di dubitare Anche di dati Di numeri Di statistiche Cioè La questione è questa Potremmo Discutiamone Ognuno ha L'interpretazione Di quei dati Ma il dato in sé Non puoi Non puoi Negarlo Ma è così Era stato anche Per la scienza Ma è possibile Che siamo In un periodo In cui La scienza Viene vista Come un dato Negativo Del progresso umano Scienza nemica La scienza nemica Cioè La scienza La scienza Commette degli errori Perché è frutto Dell'opera dell'uomo E come tale Soggetta sbagliare Però la scienza Se Correttamente Applicata Come Come pratica Scientifica Agli strumenti Per verificare I propri errori E per correggerli Questa è la cosa Quindi non può Il consenso Non può reggersi Sulla non verità Guardando Al panorama Odierno Gandolfi Non solo Quello nazionale Ma allargando Lo sguardo Lei vede Intravede Come qualcuno Sostiene Il pericolo Il pericolo Che Sia Di fatto ormai Instaurata La legge Del più forte O che ci sia Appunto Questa Modalità Anche nelle relazioni Tra persone Banalmente Non solo A livello politico O di chi Governa Il mondo Sì Però io mi sto chiedendo Ma è La reazione La legge Del più forte Perché è una reazione Di persone forti O perché è una reazione Di persone deboli Vedete Il mondo si sta Trasformando Ci sono movimenti Epocali Che non li cito Perché se no Andrebbe Tutti dicono Andremo per le lunghe Pop Linteri che si spostano E la nostra risposta È quella Della paura E la paura Fa fare gesti Di questo tipo Che però Non sono gesti Gesti forti Sono gesti deboli Perché non abbiamo La capacità Di elaborare Una visione Di un mondo Diverso da quello Che avevamo conosciuto Spesse volte Queste cose Escono Per la paura Di cambiare Non siamo innovativi No Per la paura Di cambiare Siamo conformisti Molto conformisti Molto conformisti Il nazionalismo Xenofogo Che sembra Che si stia Instaurando in Europa Porterà Questo lo dico A chi pensa Che La vittoria Dei nazionalismi No Alle elezioni europee Non voglio entrare Nel merito Di singoli partiti Non mi interessa Ma come Ragionamento Complessivo Possa Possa essere Un vantaggio Ma questo scatterà Poi Delle contrapposizioni Fra paesi Che santi Dio Sono più di 50 anni Che vivono in pace E hanno cercato Di collaborare Di affrontare insieme Le cose Con tutti i difetti I limiti Che l'Europa Ha Che l'Europa Ha Ma un conto è dire Vediamo come eliminare I limiti di questa Europa Un conto è dire Non c'è più l'Europa Ci saranno delle nazionalità Ancora E queste nazionalità Si contrapporranno Perché questo è inevitabile Discorso da politico Discorso da politico Nell'accezione Nobile Del concetto politico Ma è storico Cioè questo qua È storicamente verificato In più occasioni Ecco Torniamo dunque Proprio a quegli anni Agli esordi Della sua passione civile Delle prime esperienze politiche Abbiamo toccato i temi Salute Lavoro Scuola Come guarda A quelle esperienze A quelle battaglie Fatte sul territorio Per promuovere Un avanzamento sociale Delle comunità Su questi terreni Allora io ho sempre creduto Ma Come credo adesso Ma ho sempre creduto Nella Nella forza Della cultura Quando io mi sono occupato Di politica La prima cosa che ho fatto È fare una scuola popolare Cioè noi abbiamo dato La possibilità A tutte le persone Che non avevano avuto L'opportunità Di frequentare Le scuole medie Di fare scuole medie Per due anni Abbiamo lavorato Tutte le sere Sul modello Di Don Milani Per costruire Un rapporto Educante Fra persone Diversissime Contadino Il muratore Quello che era in fabbrica Perché vedete Questo per esempio Un appunto Che io Faccio adesso Alla mia parte politica Alla sinistra In genere Che non sanno più Mettere il corpo Sulle questioni Cioè Adesso Devono Secondo me Ci sono due cose Da fare Se vuoi riprendere La credibilità Nelle persone Che hanno perso fiducia Che è la cosa peggiore Che il tuo impegno Il tuo lavoro È gratuito Quindi puntare Sulla gratuità Sulla gratuità Perché la politica Non diventi un mestiere E puntare Sul fatto Di metterci il corpo Mettere il corpo Vuol dire Che sei tu Il primo Che sei Che metti il tuo corpo Nelle battaglie Nella tua presenza Non puoi Chiuderti All'interno Del Parlamento O dei consigli E pensare Di essi Il demiurgo Che governa Il mondo Non si fa così Tu fai questo Perché il tuo dovere È stato eletto Devi mettere in campo Le politiche Ti ritieni giuste Che la gente Ha condiviso Ma tu devi essere Il primo Dei soggetti Che Fra virgolette Subisce queste cose qua Quindi gratuità E metterci il corpo Questa è la cosa E questo è quello Che abbiamo fatto Nella scuola popolare Nella scuola popolare Noi Non si faceva lezione Oggi parliamo Dell'Africa E veniva un missionario Oggi si parla Di Galileo Si andava a vedere Il Galileo Di Breck Con persone Che sapevano A malapena Scrivere E leggere E quelle persone Che sono uscite A nostra scuola popolare Molti sono diventati Gli imprenditori Capite E quindi Il valore della cultura Prima Ma anche adesso Ovviamente Su piani diversi Adesso Perché adesso Devi usare strumenti Linguaggi diversi Ma può diventare Veramente L'elemento Che fa vincere La battaglia giusta In tal senso Cultura Quella sfida Di aprire una libreria A Calolzio Corte Fu una grande Ricordata Ricordata Ancora oggi Il nostro direttore E Panzieri Si Conoscevano Si Si E' stata la più bella esperienza Da mia vita E' stato I dieci anni più belli Dove non ho guadagnato Una lira Ma è stato bellissimo Se devo dire Perché adesso Ogni tanto ci sono Dei giorni Dice ma mi piaceva aprire una libreria Dico guardate Fareste il lavoro Più bello del mondo Ma pensate bene Come procurarvi Un sostentamento A qualche altra parte Perché le piccole librerie Sono incredibili Però è stato Perché era diventato Anche un Così Come posso Il luogo Dove si facevano Dei ragionamenti Che non fossero Quelli Così proprio Un po' illimitati Non perché Fossero snobistici O alti Ma qualche ragionamento Che ti fa riflettere Quelli che pongono domande Perché i ragionamenti più belli Sono quelli che pongono domande Non quelli che danno sempre risposte su tutto Anche perché non le abbiamo Le risposte su tutto Lei è stato sindaco Montemarenzo Due mandati Due mandati È stato presidente Della comunità montana Della Valle San Martino Segretario provinciale Allora erano i DS Ecco di tutte queste esperienze Diciamo quella A cui è più legato Quella che Crede lei Le ha dato Lei è riuscito a dare Un'impronta Lasciare Penso quella di sindaco Sì Penso quella di sindaco Perché come dicevo Abbiamo costruito Una comunità Sì Quelle Quelle suggestioni Che avevi da ragazzo La ludoteca La biblioteca I servizi A domicilio Che pensavano Lontanissime L'hai fatte Il centro di aggregazione Giovanile L'hai fatto Questa La scuola a tempo pieno L'abbiamo fatto E questa è una soddisfazione Ma Non per me Perché hai visto Una comunità cresce Punto Però Io potevo essere rieletto Ma io mi ero prefisso Due mandati Perché Stare sempre Adesso dico Magari qualche collega mio Una volta sì Non è d'accordo Però Se Se ti sedimenti In una posizione Ti mancano Alla fine Gli stimoli Per fare Delle cose nuove È giusto Togliersi Insomma Togliersi E far sì Che altri si sperimentino Altrimenti Diventa una routine E la routine Non è mai Una buona cosa Per chi amministra L'esperienza invece Da segretario di S La verità Faticoso Cioè Faticoso Perché Vedete L'esperienza di segretario È quell'esperienza Che ti ha impegnato Dal punto di vista Fisico Intellettuale E emozionale Tantissimo E non vedevi mai I risultati concreti Oppure Erano pochi Io Non so se l'ho fatto bene Dico la verità Ho cercato Anche lì Di costruire Delle modalità Di dialogo E così via Era il momento In cui Si pensava Già di costruire Una futura Alleanza Con la democrazia Si chiamava Margherita Però è stato Faticoso Anche ricomporre Le questioni all'interno Fatiche Vedendole adesso Fatiche che vanno fatte Ma Delle quali forse io non ero proprio così tagliato Ha parlato la sua esperienza di sindaco Monte Marenzo Il paese Che era un paese Bergamasco Quindi nasce la curiosità di capire Come questa terra di confine Della provincia lecchese Visse quella fase di passaggio Appunto da Bergamo a Lecco Lei da amministratore Che sentimenti percepiva nella comunità Come ricorda quegli anni? No, li ricordo in questo senso Che Io Ho fatto anche delle assemblee Nel mio paese su questo E ponevo solo tre questioni Dicevo Allora In ballo c'è la questione dell'identità E la questione Della vita Della tua collettività Identità è anche una cosa personale Una cosa personale Allora Io La mia identità Non potevo dire che fosse Bergamasca o lecchese La mia identità Me la sono fatta Sul Vietnam Sul Cile Sul cinema Non è che mi A me interessava molto Capire se i miei cittadini Quando avevano bisogno Di andare a scuola Quando avevano bisogno di lavorare Quando avevano bisogno di divertirsi Andavano a fare la spesa Per il trasporto La sanità La motorizzazione Il tribunale Erano più comodi a Lecco Più comodi a Bergamo Banalmente Così è stato È stato fatto E quindi Montemarenzo Non ha avuto Discussioni traumatiche Su questo Su questo punto Non ha avuto il rigetto Che ha avuto la comunità A voi vicina Di Torre dei Buzzi No, no, non l'ha avuto Però ha probabilmente Un'altra storia Che io non Non posso dire nulla Noi non abbiamo avuto Neanche una discussione Accesa Ecco Noi dicono È stata una volta La levata La frazione Una frazione elevata Che era composta Prevalentemente Dei immigrati No? Quando sono andato A fare l'assemblea Giù alla levata Dopo le varie opzioni Che si sono sentite Si alza uno E dice Sindaco Voi potete decidere Di andare a Bergamo O stare a Lecco Ma sappiate Che io sarò sempre Avellinese E quindi Anche lì La questione Dell'identità Si è un po' Sfarinata In questo senso A proposito Di Montemarenzo Avete dato vita Dico avete Perché Non c'è solo lei Gandolfi C'è un'altra figura Diciamo Che rappresenta Poi il perno Poi Carla E poi altre persone A questa associazione Culturale Che si chiama UPPER Sì UPPER È un acronimo Di un paese Per star bene Che abbiamo Io e Sergio Vaccaro Prevalentemente Poi aiutato Ovviamente Da altri Abbiamo Timidamente All'inizio Messo insieme E che ruota Attorno a un sito Un blog nostro Che è Che ci siamo Prefissi una cosa Di pubblicare Un posto al giorno E siccome pubblichi Un posto al giorno Solo Esclusivamente Su problemi locali Del nostro territorio Credete Voi lo sapete Che il vostro mestiere Non è facile Però Abbiamo Delle buone Delle buone De buoni Accessi Diciamo Ecco Abbiamo accessi Negli ultimi Due o tre anni 150 mila persone Così No Un buon accesso E in più Abbiamo Cominciato a fare Un lavoro Culturale Ecco Quindi Teatro Cinema Pubblicazioni Incontri È molto gratificante Questa cosa qua Se volete Vi dico Anche qualche Cosa che stiamo facendo Anche ultimamente Perché l'attualità Ci porta a questo Progetto Posso segnalarvi Una cosa Assolutamente Sì Allora Questo qua è un film E non è solo un film Questo qua è il processo Di un lavoro Di due anni Fatto da Upper Dall'associazione Lo specchio Per le persone disabili Dal comune di Careno Della comunità montana E dal CAI Di Bergamo Perché abbiamo Recuperato Un sentiero Ad utenza ampliata Un sentiero Di media montagna Che può essere Percorso anche Delle persone In carrozzina E l'abbiamo raccontato Questa vicenda In questo film Bellissimo E sta per essere Frequentato Da molte persone disabili In questo momento qua E per tutti ovviamente Su Alpertus Alpertus Che va Verso Careno Un sentiero per tutti Un sentiero per tutti Questo è stato Un lavoro bellissimo E poi abbiamo fatto Altri due film C'era niente Con Con L'hauser Di Carla C'era niente Che è stata Questa ricerca Delle testimonianze Del novecento Delle persone anziane Di Monte Marenzo Che E questa ricerca Ci siamo stati Un po' Nelle retrovie Perché abbiamo fatto Che ci fossero Delle ragazze giovani A farlo Hanno fatto loro Questo film Intervistando Le persone anziane E mettendosi A confronto Con la loro vita È stato molto carino Poi abbiamo fatto Un altro film Un gioiello nei boschi Che è quello Su Santa Margherita E dopo ci siamo impegnati In questo lavoro Sempre con lo specchio Teatrale Che noi consideriamo Molto importante Diversamente viva Appunto Come si diceva prima Che viene rappresentato Venerdì Di questa settimana 30 novembre 30 novembre Cenacolo Francescano Alle ore 21 Che è Una Messa in scena Del Romeo Giulietta Di Cespir Dove la Giulietta In carrozzina È una persona Giovanissima In carrozzina Ma ovviamente È il pretesto Per raccontare Questa storia Di una vita Fatta appunto Di disabilità Ma anche Dei suoi amori Dei suoi sentimenti Le sue battaglie Le sue vittorie La protagonista Si chiama Anna Esatto E nella scrittura Del testo Lei si è ispirato Ad una Anna Che non c'è più Ma che ha rappresentato Tanto in termini Di battaglie Civili Molto Per le persone disabili Di Lecco E del nostro territorio Anna Conti Che è venuta a mancare Negli anni Ottanta In fine degli anni Ottanta Era una ragazza In carrozzina Che ha realizzato Lei veramente Come dico È riuscita A ribaltare Un destino avverso Che l'aveva costretta Sulla sedia a rotelle È riuscita A realizzare I suoi sogni Personali Individuali Affettivi Ma aveva una capacità Di mobilitazione sociale Sul tema della disabilità E non solo Ma anche Nel confronto Delle persone diverse Così Abbandonate È stato molto importante Molto forte Ha segnato anche La nostra amicizia Ho ritenuto Così Molto Modestamente Di continuare Questo tipo di lavoro Insomma È uno spettacolo Che vuole parlare a chi? Questo spettacolo Vuole parlare Alle persone Che ritengono Che i disabili Che le persone disabili Debbano Rimanere sempre bambini Ecco Vuole parlare a queste persone Perché non è vero Che il disabile Vuole rimanere sempre bambino Lei è riuscito a realizzare I sogni Almeno i principali Che ha coltivato Nella sua vita Così intensa Sì dai Devo dire di sì Devo dire di sì Adesso è vero Un combattente però Bisogna combattere Eh sì 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 Bisogna combattere Io adesso sono un po' vecchio E quindi non ho più La grinta di una volta Sono più tranquillo Per esempio Non mi arrabbio neanche Quasi più Quando trovo Il parcheggio Già occupato Da qualcuno Sarà bene molto di più Mia moglie La Carla Io Ecco Non riesco più neanche Arrabbiarmi tanto di quello Però Nulla È regalato Ecco Le persone Ci sono poche persone Che ti donano Ma È anche giusto Che ci sia Una Una battaglia In alcune cose Queste battaglie civili No? Perché servono a far crescere Servono a far crescere Perché le persone Alcune volte Non sono attente Non perché sono cattive Ma perché non conoscono E il senso di questo teatro Anche quello Ti metto in scena Il corpo Di una persona disabile E dal suo racconto Da quello che dice Dai suoi gesti Tu capisci Cosa ti manca Per essere Con lui Effettivamente solidale Beh è una riflessione Molto giusta A volte Non serve essere cattivi Per fare del male No Involontariamente si fa del male Anche voltando gli occhi Dall'altra parte Non guardando la realtà Non guardando i problemi A cui si può dare un contributo La famosa filosofa Che diceva questa Che la banalità del male Anare Eh La anare Era proprio dovuta a questo Insomma Ecco Non aver avuta La conoscenza La percezione Della sofferenza dell'altro La difficoltà dell'altro Ma non in termini pietistici Eh In termini di far valere Anche per l'altro I diritti che ho io E a chi dice Che la cultura non serve Cosa replichiamo? No Io dico che la cultura Si mangia ragazzi Con la cultura si mangia E bene E si è soddisfatti Bisogna essere golosi di cultura Oh bella questa Questa è bella Allora Se posso La mutuerò Nelle occasioni ovviamente Adatte Citando la fonte Bisogna essere golosi di cultura Anche perché la cultura Forse nella sua accezione più importante Io credo E penso anche che siamo d'accordo Serve a diventare persone più consapevoli E se non siamo consapevoli Forse non riusciamo ad essere liberi Certo A pensare con la nostra testa Certo La consapevolezza vuol dire che ogni tanto L'automobile la guido anch'io E non faccio solo il passeggero Altra citazione Altra citazione Che possiamo mutuare Allora suggerimento magari Il prossimo lavoro Aforismi Di Angelo Gandolfi Aforismi Angelo grazie davvero Grazie a voi Del vostro video È stato un piacere 40 minuti che sono veramente volati Grazie 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 Davvero Grazie Alla prossima puntata di Primo Piano Arrivederci Grazie a tutti